Chiara Ferragni si ricopre d'oro per la sfilata di Michael Kors Che charme scintillante è quello di Chiara Ferragni che, per l'ultima sfilata della NIFV, si è ricoperta d'oro, è così che si presenta allo show di Michael Kors, chiudendo la sua settimana della moda nel modo più glamour possibile Chiara Ferragni si ricopre d'oro per Michael Kors. L'outfit scelto da Chiara Ferragni per la sfilata di Michael Kors è semplicemente meraviglioso, l'abito è oro, con finissime stampe floreali scintillanti, che ricoprono tutta la stoffa del vestito dell'influencer di Cremona La scollatura è sensualissima e morbida sul décolleté, leggermente in vista per la profondità del taglio dell'abito che termina con una gonna cortissima, scoprendo le gambe sinuose e slanciate della neo trentenne, e ricadendo leggermente più lungo dietro, proprio come il trend del momento impone nel fashion world Quella di Kors, per la fidanzata di Fedez, è l'ultima sfilata della sua New York Fashion Week, a cui ha partecipato dopo l'evento di Ralph Lauren, per cui aveva indossato un abito nero dal taglio piuttosto minimal sul corpetto e dove ha potuto ammirare alcune amiche e colleghe VIP, come Bella di The Kendall Jenner E ora? Gli impegni, di certo, non finiscono per Chiara Ferragni, che saluta la grande mela con un look piuttosto casual, ovvero la felpa di Louis Vuitton X Supreme che ha in comune con Fedez, e riparte, così, per l'Italia Mancano pochissimi giorni, in effetti, alla grandissima inaugurazione della Chiara Ferragni Collection a Milano, come recita a caratteri cubitali il billboard voluto dalla ragazza in zona Moscova, il suo primo flagship store inaugurerà il 23 settembre, proprio durante la Milano Fashion Week Quale momento migliore? Chiara lo sa benissimo e, a pochi giorni da questo grande evento, deve volare in Italia per mettere a punto gli ultimi dettagli affinché sia tutto perfetto Se siete curiosi, potete già sbirciare lo shop della Ferragni, visto che è aperto da oltre un mese, all'interno, tra camerini glitterati, specchi, e il nastro trasportatore con le scarpe, stile sushi bar, potrete ammirare alcuni tra i capi e gli accessori più richiesti della sua collezione personale Chiara Ferragni, New York con Fedez da veri innamorati Prima di buttarsi a capo fitto nei prossimi impegni lavorativi, ovvero l'inaugurazione della Chiara Ferragni Collection e lo show Oh Nice di Intimissimi per cui sta curando i costumi, Chiara ha voluto ricaricarsi a dovere con Fedez I due piccioncini più chiacchierati d'Italia hanno trascorso diversi giorni nella grande mela insieme, proprio come due perfetti innamorati, hanno passeggiato mano nella mano per le strade di Manhattan e fatto una bellissima crociera sotto la Statua della Libertà Inoltre, hanno sorseggiato un aperitivo su una terrazza panoramica esclusiva e partecipato ad alcune delle sfilate più glamour della Nefv. Lì, hanno rivisto alcuni VIP loro amici, come Paris Hilton, ad esempio, che ha posato con i due fidanzatini per una foto Le due bionde, entrambe molto celebri nello star sistema americano, sono piuttosto amiche come si evinci da alcuni scatti su Instagram, ma anche Fedez non è da meno Per senza pagare, uno dei tormentoni più pop dell'estate 2017, Paris ha aperto al rapper le porte della sua casa, per girare all'interno alcune parti del video. Il ritornello? Lo ha ballato anche lei Il ritornello? Lo ha ballato anche lei